Ci siamo! Finalmente è arrivato anche in Calabria Happy Store! Alla mezzia terme in via Piersanti-Mattarella. Da Happy Store puoi trovare offertissime riservate da cogliere al volo, articoli di qualità e di ogni tipo. Vieni a trovarci e richiedi la tua tessera personalizzata per usufruire delle strepitose offerte, i migliori prodotti di qualità e le eccellenze italiane del food and beverage, la grande moda internazionale e tutto per la bellezza e la cura personale per uomo, donna e bambino. Accessori moda e il meglio della tecnologia. Happy Store, in via Piersanti-Mattarella. Vieni a trovarci e richiedi la tua tessera personalizzata per usufruire delle strepitose offerte. Per info 0968 25485, visita sito www.happystore.tv o seguici su Facebook e Twitter. Happy Store, lo shopping che ti fa felice!